In questo numero del Salus Tg, 27.000 all'anno i casi di tumore della vescica, un problema oggi sempre più risolvibile. Negli USA, polemiche sull'uso del cellulare in sala operatoria. Lo SNAMI, retribuire al medico i certificati di malattia per l'Inps. Sono 27.000 all'anno in Italia i nuovi casi di tumore della vescica e si stima che a causa dell'invecchiamento della popolazione saranno 30.000 nel 2020, molti anche giovani colpiti da questo tumore, che nell'80% dei casi si cura localmente, mentre nel restante 20%, ben più aggressivo, bisogna rimuovere la vescica e ricostruirla. Questa può essere fatta attraverso la vescica ortotopica, cioè si prendono 50 cm di intestino, si apre, si costruisce una palla tipo con le cociture della palla da tennis, si attacca all'uretra e agli ureteri e nella migliore condizione. Quando questo non è possibile per motivi oncologici, bisogna derivare le urine in maniera diversa, attraverso il sacchettino o attraverso questa tasca continente, che è una soluzione che è ottima sia per l'immagine del paziente e per la vita normale del paziente stessa. L'uso del telefonino in sala operatoria divide i medici USA. I messaggi di testo e il semplice controllo delle chiamate ricevute possono distrarre chirurghi e operatori sanitari durante l'intervento, mettendo anche in pericolo la salute dei pazienti. Per questo motivo due prestigiosi accademi statunitensi hanno pubblicato un documento che mette in guardia dall'uso dei telefonini in sala operatoria. Retribuire al medico i certificati IMSS di malattia e la richiesta dello SNAMI. Al momento sono gratuiti insieme al certificato di rientro a scuola, afferma Angelo Testa, presidente dello SNAMI, e per alcuni versi a quello per l'attività sportiva scolastica. Non vedo perché un certificato così importante che presuppone competenza e professionalità non debba essere retribuito al medico alla stregua dei certificati di infortunio, INAIL e di altre certificazioni.